Gli americani. A Firenze iniziò la carriera di commissario aggiunto e riuscì ad arrestare un montenegrino accusato di spionaggio. Dopo due anni fu chiamato all'ufficio crittografico della polizia dove inventò un metodo di scrittura che si poteva applicare anche agli ideogrammi. Gli americani appena ne vennero a conoscenza adottarono il metodo chiamandolo black box che significa scatola nera perché era impossibile riuscire a decifrarlo. Quando fu trasferito a Siracusa il commissario si sposò. Andò ad abitare in una casa al primo piano ed ebbe due gemelle. Una notte d'estate mentre lui era al lavoro da una macchina lanciarono una bomba che rimbalzò sul davanzale della finestra ed esplosse sul letto dove dormivano le figlie uccidendole sul colpo. I suoi superiori gli dettero un mese di licenza e gli fecero avere un assegno perché si distraesse. Mentre prendeva con la moglie il treno delle ferie pagate il commissario pensava alle figlie con la gonna troppo corta e le gambe magre e con il seno che all'improvviso si sarebbe retto come un fiore. Le vedeva quando giocavano a nascondersi lungo il viale con gli alberi d'arancio. Adesso gli restava il silenzio di una tavola diventata troppo grande. Commento. Si potrebbe dire se la bomba non rimbalzava sul davanzale e cadeva qualche centimetro prima sarebbe esplosa fuori della stanza e non avrebbe ucciso le bambine. Ma per la legge d'evoluzione il sé esiste solo quando l'individuo ha varianti da scegliere e può usufruire della sua libertà relativa. Con il momento della morte invece l'individuo non ha nessun tipo di libertà perché la scansione delle morti nelle varie incarnazioni è stabilita dall'individualità e non dall'individuo. Questi può scegliere le modalità della morte ma non il momento in cui la morte avviene. Allora qual è la differenza tra individuo ed individualità? Ecco la similitudine che fanno alcune guide. Immaginiamo un tronco con dei rami. Il tronco può essere paragonato all'individualità, alla scintilla divina, alla goccia divina che è in ognuno di noi, alla legge che costantemente ci richiama al meglio di noi stessi. I rami sono gli individui, le personalità che la stessa individualità assume nelle molteplici incarnazioni prima di identificarsi nell'assoluto.